È stata presentata questo pomeriggio presso la sala consigliare di Palazzo Gunela la 634esima edizione della Fiera dell'Ascensione. Presente il commissario prefettizio Sergio Pompogno ed il comandante della polizia locale Giuseppe Calcaterra. Anche quest'anno non mancheranno come sempre le bancarelle e i mercati presenti nelle principali vie cittadine, dal classico quadrilatero che circonda l'ex caserma alla via Emilia con i prodotti enogastronomici e street food, passando per via Carlo Marx che ospiterà il mercatino a piva e i portici di Piazza Duomo che accoglieranno il mercato delle arti e dei mestieri curato da Confartigianato. All'interno del cortile sud dell'ex caserma tornerà anche il Luna Park, già attivo dal 23 aprile scorso. Alcune giostre speciali sono presenti anche nell'area Fermi, spazio dove si terrà anche la fiera dedicata a sport e tempo libero, con associazioni, volontariato, il tendone EMPA, un'anteprima del rally 4 stagioni, oltre che un concorso fotografico dedicato all'assenza che vede protagonisti gli studenti delle scuole. Tanti gli eventi collaterali, dagli spettacoli delle scuole del Teatro San Rocco, arriverà anche Flavio Oreglio, alla mostra fotografica sul commercio, ospitata dalla civica biblioteca ricottiana, fino alle aperture straordinarie del Museo Storico. Particolarmente attivo l'Istituto Agrario Gallini, autore di numerose iniziative. Il commissario Pomponio ha fatto contenti coloro che chiedevano l'abolizione dei fuochi d'artificio. Al loro posto la banda della città di Voghera, con un concerto che inizierà la sera di domenica 8 maggio da Piazza Duomo e che si concluderà in Piazza Meardi. Un ridimensionamento che non incide sul risultato della fiera, assicura il commissario Pomponio, che invita a riflettere sul fatto che l'amministrazione comunale non dovrebbe gestire questi eventi, ma darli in appalto a soggetti terzi con una gara da parte del comune. Per il comandante della polizia locale Giuseppe Calcaterra, l'obiettivo per quanto concerne gli espositori come quelli dell'area Fermi è stato quello di evitare la presenza di attività commerciali non adatte al contesto.